A volte un temporale non ci faceva uscire Di una certa età mi offriva spesso sigarette e buche ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco Simone Cristicchi, il significato di portare la musica di Battiato a Romena È un misticismo che si espande all'ennesima potenza perché già questo luogo, che è il luogo del mio cuore sprigiona un'energia fortissima e qui ci sono tanti ricordi legati proprio al mio percorso spirituale e le musiche, le canzoni di Battiato qui sono proprio la ciliegina sulla torta sono la perfezione quasi assoluta Intorno a Ferragosto migliaia di persone da tutta Italia per venire a ascoltare te e Amara È incredibile, è un sogno che si realizza io penso che non ci potevamo aspettare meglio di così Insieme a Simone portare Battiato sul palco questa è una tournée che sta girando da oltre un anno qual è il significato che ha avuto per te e per voi la proposta di questo grande artista? Per noi è stata la ricerca e anche la voglia di entrare nelle sue profondità per portare alla luce e veramente anche nelle orecchie, nelle attenzioni di tutti quei codici e quelle rivelazioni e quelle piccole magie che lui ha scoperto per sopravvivere sulla terra Un pensiero per i viandanti di Romena di tutta Italia che sono venuti a farvi festa Ma grazie, grazie, a parte li troviamo ovunque ovunque c'è un pezzettino di Romena e quindi l'idea di celebrare qui Franco è un dono enorme Grazie